bello a tutti ragazzi bentornati sempre qui su bsquare gaming mi raccomando iscrivetevi bla 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 insomma tutte le cose che un tempo vi dicevo ragazzi dopo attente ricerche praticamente era qui è un fè ok quindi adesso vediamo dovrebbe tutto funzionare riesce il sangue dagli occhi merda statua di merda davvero andiamo avanti vediamo che cosa succede porta sicuramente erba verde sicuramente proiettili ok vediamo un po' che cosa succede qua dentro olè quindi qua si è bloccato tutto boh ma questa voce che cazzo mi spiega ma che cosa sta dicendo ah minchia proprio ho finito con voi siete rimosse da questo esperimento dal diavolo l'esperimento cosa hai fatto a nini il patibolo divino è servito al suo scopo pure il fuoco di prometeo divorerà ogni cosa sapevo che era una trappola Claire corri corri dove ti ho fatto salire allora vediamo un po' che cosa si può fare a meno che non riesco no non riesco a passare in mezzo allora vediamo un po' forse riesco a fare così però o così o così ok a posto praticamente è il solito gioco io faccio questo a lei lei probabilmente va qui brava così mi piace quindi adesso dovevi riuscire riuscire ok quindi mi sa che adesso dobbiamo andare avanti in parallelo sarebbe tutto molto più semplice se probabilmente si giocasse in modalità cooperativa dai ora non vorrei che si alzasse quel cadaverello oh merda dai 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 prima che arrivi prima che arrivi che culo che culo che standing adesso però ecco dai dai che ci siamo quasi che lavoro di cooperativa di team ok quindi andando qui allora vediamo no non ho tempo ok l'ha presa sì dai che ci siamo quasi dovemo ah merda brava ok brava libro non ci mettiamo a leggere il libro le quattro le quattro porte proseguire senza sapere è un attentato alla tua vita scegli il secondo il sapere tuttavia la risposta potrebbe non risiedere davanti ai tuoi occhi ok quindi quindi ah proprio così oh che culo a caso ho beccato la statua che piangeva e ho provato con quella basta quindi se mi chiedete che cazzo ho fatto è stato un caso forest che cazzo era piena di esplosivi è piaciuto anche a te forza andiamocene da qui dai andiamoce la guardiana ci ha tenute sott'occhio per tutto il tempo ma se ora crede che siamo morti nell'esplosione almeno abbiamo il fattore sorpresa il fattore sorpresa ha un par di coglioni lo sento le fogne altro altro meta preferita ok quindi adesso siamo qua dentro vediamo un po' dovevo ascoltarti Neil non ha scritto quel messaggio non avrebbe potuto tu che sei? che cosa vuoi? mettilo giù merda ma è di terra safe non capisco di cosa stai parlando niente braccialetto perché non hai un braccialetto? ti sembro forse una donna oh cristo vecchio non sai che succede? devi andartene prima che sia tardi mai sto a casa mia ora via di qui voi gente venite nella mia bella isola e portate via tutto di qui qualsiasi cosa di brutto che succede ora non chiedetevi aiuto morite a casa vostra cioè è un concetto onestamente che allora questo lo lasciamo vabbè chissene per il momento teniamo quindi dobbiamo andare a morire a casa nostra obiettivo di una missione Chris Raffield il mitico Chris Raffield ragazzi per essere in Tivolt 2 mi raccomando Monelli andatelo a giocare i veri di essere in Tivo mi serve aiuto ok quindi vediamo un po' qui qui ok powerful mega power ok custodia party chissà quali parti saranno evidentemente non dobbiamo andare di qua lì c'è qualcosa che luccica no ragazzi ma ok ok evidentemente mi mi sta trollando ok infatti abbiamo sbagliato strada ole cos'è quella roba perché c'erano le bollicine sapete che non mi fido proprio per un cazzo ma chissà che cos'era che faceva le bollicine oh bravissima brava moira brava guarda quante munizioni mie poi carte genica quindi in questo gioco se dovete cagare non è un problema va bene allora tre addirittura cazzo cazzo ehi anche cazzuti eh tre non a caso sbatti vero allora giallone giallo più intenso qui qui dovrebbe essere oh perfetto per un pelo ok quindi ce l'abbiamo fatta bene come piego ok questo lo passiamo oppure questo lo combiniamo con questo questo e quindi adesso oh perfetto qui non me la raccontano giusta ragazzi questo è proprio da scena di Devil Within ahio cazzo ma non mi fa un cazzo niente uh cazzo se fa male oh ecco così per non farci mancare nulla maledetti va bene quindi allora siamo qui vediamo un po' che cosa succede forza e coraggio allora vediamo un po' dai dai staccalo oh bravissima secondo che fatica ragazzi sto piede di porco che preziosissime munizioni a me ma dove cavolo siamo finiti mi sembra di essere ritornati all'inizio quindi avevo capito che l'acqua non è nostra alleata quindi sali la scala ASAP vabbè tutto qui tra l'altro non c'è modo di vedere in tutta sincerità non si riesce non si riesce a vedere o riconoscere sti cazzo di zombie da dietro no cioè proprio zero ma scusa ma che cazzo di giro ho fatto cioè qua sopra è possibile che non ci sia niente no infatti c'è qualcosa cazzo quindi sicuramente ci sarà qualcosa qui ok dai fai qualcosa Moira di merda là c'è qualche cos'altro eh ah proprio cazzo come Terminator dai esplodi che tanto non ce ne frega un Kaiser Sose mamma mia quanti enigmi quanta tension dai quindi siamo in una nuova stanza e ragazzi mi sa che ti devo dare appuntamento al prossimo video non ce cazzo che regga al prossimo video